Quando qualche mese fa sono andato a dar fastidio ai miei amichetti youtubers che fanno Brawl Stars il video vi è piaciuto tantissimo, sto parlando del video in cui sono andato a chiedere appunto ai miei amici come aprire le Megabox durante un box opening e quel video vi è piaciuto tantissimo così ho deciso di chiedere adesso ai miei amici youtuber che portano Brawl Stars qual è il loro brawler preferito e quindi andare a scoprire qual è il brawler preferito di noi youtubers italiani ovviamente parlo soltanto per i miei amici e ovviamente poi vi dirò anche il mio quindi ho scritto ad ognuno di loro, ho chiesto a loro di farmi un vocale e spiegarci anche il motivo del perché un determinato brawler è il loro brawler preferito ora io tra l'altro voglio che sotto nei commenti vi sbizzarriate e mi scriviate cosa devo chiedere prossimamente ai miei amichetti youtubers anche l'idea è più strana, accetto tutto ma basta che arriviamo a 10.000 like per un prossimo video del genere ovviamente vi ricordo di utilizzare anche il mio codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars e ovviamente di iscrivervi al canale se ancora non lo aveste fatto anche perché siamo sotto aggiornamento sotto sneak peek col brawl talk che c'è stato ieri quindi ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto per non perdervi tutti i video in anteprima in esclusiva appunto qui sul mio canale nei prossimi giorni detto questo ragazzi direi di partire col buon Grax sentiamo Grax e qual è il suo brawler preferito ma soprattutto il perché vediamo un attimo è vero è vero è vero ragazzi confermo 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 assolutamente tra l'altro è stato divertente come abbia detto il mio brawler preferito è ovviamente Danamike come se fosse il brawler preferito di tutti non lo so fatemi sapere sotto nei commenti se anche per voi è Danamike il vostro brawler preferito però confermo ragazzi che Grax è sicuramente il più forte in Italia lo ha dimostrato come ha detto anche lui nel suo profilo Instagram GraxBS quindi GG per il buon Grax e andiamo a mettere Danamike in suo onore ora ragazzi passiamo a ferre ma penso già di sapere qual è il suo brawler preferito e anche il perché ma andiamola a sentire per scrupolo signor Gigi buongiorno ma ovviamente Ricco perché Ricco worka sempre palese e non so neanche io il perché ma Ricco worka e anzi nei commenti di questo video dovete scrivere che Ricco worka altrimenti non workerà nessun altro brawler palese ah addirittura non workerà nessun altro brawler se Ricco non worka ormai con ferre c'è questo meme di Ricco worka e quindi ovviamente ci avrei messo la mano sul fuoco che il brawler preferito di ferre appunto fosse Stecca Rico però effettivamente Stecca worka non suona bene meglio Ricco worka cioè ci piglia proprio in inglese ovviamente lo andiamo a mettere in onore del buon ferre e passiamo al prossimo che è Nemos sentiamo un po' Nemos sono curioso perché non saprei proprio quale possa essere e infatti è combattuto è una miseria traierdato una inaspettata te sparo Leon vai una inaspettata te sparo Leon poi chiederemo a Nemos da quando Leon è diventata femmina però direi che questa è già una scelta un po' più comune rispetto magari a Ricco o Dynamike e ci sta eh Leon brawler strafigo detto questo direi di passare al buon Mattiz sentiamo un po' che ci dice mio caro Gigi devi sapere che il mio brawler preferito è sempre stato Corvo ok il mio corvetto preferito l'ho trovato in una cassa gratuita quando Browstack era ancora verticale non in orizzontale ah no 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 non prima però è ancora uscito in Italia io ho già trovato Corvo è stato assurdo e da lì da lì niente da lì è stato quindi è la beta regà penso il brawler con cui ci ho giocato di più ed ovviamente è il più forte di tutti lol o in realtà forse no però vabbè lol regà allora anch'io Corvo l'ho trovato in una cassa gratuita Matti quindi stessa cosa come te però non quando Browler era in verticale cioè regà praticamente Matti ci ha Corvo dall'alba proprio dei tempi pazzesco ti credo che è il suo brawler preferito è proprio storico ma adesso passiamo anche al buon Kazusan sentiamo un po' qual è il suo brawler preferito buonasera signor Gigi buonasera al pubblico di Gigi allora qui mi hai fatto una bella domanda beh perché sono sempre sempre oh tutti che mi hanno detto qui mi hai fatto una bella domanda attenzione non hanno apprezzato la domanda di come aprire le megabox devo sentirmi offeso ragazzi oppure devo sentirmi lusingato dei complimenti che mi stanno facendo questa volta vabbè continuiamo a sentire Kazoo molto indeciso su questa scelta ok però uno che preferisco un tantino più degli altri è Frank ah è vero è vero mi diverto con lui a giocare in football l'aveva già detto c'è un altro? l'ha chiesto a Cap ho sentito Cap l'ha chiesto anche a Cap lol regà Cap qual è il tuo brawler preferito? Nita ovviamente perché Nita? perché è l'unico che conosco allora infatti ragazzi specifichiamo ovviamente anche Cap è un mio amico poi ormai si sono trasferiti qui a Roma quindi tanta tanta roba però ovviamente Cap non giocando a Brawl Stars non glielo sono andato a chiedere però giustamente loro convivono e quindi Kazoo ha preso la palla al balzo e gliela ha chiesto quindi GG Kazoo 2 al prezzo di 1 fondamentalmente quindi praticamente Cap nita solo perché conosce lei però andiamola a mettere anche perché abbiamo la skin natalizia e stiamo proprio a tema ok ragazzi andiamo a sentire Dragoon Dragoon ah ovviamente in descrizione trovate il link dei canali dei vari ragazzi ovviamente eh ma di Dragoon trovate anche il link del suo sito dove vi tiene aggiornati su tutto il mondo dei giochi mobile mi raccomando ragazzuoli fateci un salto appunto c'è il link in descrizione voilà ciao GG ragazzi avete messo il like sì vero sotto il video comunque mi raccomando mi raccomando è Tara tutta la vita ci sta Tara perché c'è una super che mi piace troppo è vero ci sta ci sta è vero ci sta regà ci sta ragazzi Tara ottima scelta è anche una dei miei brawler preferiti ma dopo vi dirò il mio probabilmente qualcuno lo saprà anche già e per ultimo ragazzi ma non per importanza ma semplicemente perché è stato il primo a rispondermi e quindi la sua chat è scesa sotto a tutti non che Grax sia stato l'ultimo è che poi con Grax ho parlato anche di altre cose quindi la chat è salita il buon Mushix tra l'altro ci ha fatto anche il vocale più lungo quindi sono davvero curioso di sapere cosa ci ha mai raccontato sentiamo allora signor Geggi te l'esci con queste domande non sapendo che io ho un brawler preferito tipo da 18 milioni di anni ok non lo so non lo sapevo qual è? ok non si bevano molto vabbè 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 comunque è Corvo è il Corvettino sì 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 il Corvettino decisamente è il mio brawler preferito perché? perché è strafigo è un leggendario due Corvi c'è Corvo Fenice c'è Corvo anche tu puoi rimodeli qua quanto è bello è vero regà il rimodel che spettacolo si sa la mia preferita di Corvo regà pazzito Mushix ci sta raga e quindi regà a meno che io non andrò a scegliere un brawler che è già stato scelto dagli altri non da Mattiz e Mushix Corvo vincerà questa sfida con soli due voti perché tutti gli altri hanno scelto uno diverso una cosa un po' inaspettata però effettivamente ormai siamo arrivati a 40 brawler 41 con Lu che appunto è il nuovo brawler di ghiaccio è stato presentato nel Brawl Talk di ieri però io vi ammetto che questi vocali gliel'ho chiesti prima dell'uscita del nuovo brawler vi dico ragazzi che il mio brawler preferito è Mr. P per due motivi ragazzi per soli due motivi allora innanzitutto è un pinguino e il mio animale preferito è il pinguino perché sono troppo carini ragazzi li adoro da morire e poi perché ha questa dinamica del rimbalzo che gli permette di essere uno degli unici brawler se non proprio l'unico brawler ad avere un buon colpo un buon danno diciamo così perché può essere un doppio danno se ti becca due volte con la valigia quando rimbalza e allo stesso tempo può ettarti dietro i muri e poi c'ha la ulti dei robottini con la casetta dei robottini che ne richiama infiniti finché non la distruggi che è davvero spettacolare altri brawler che mi piacciono tanto ragazzi c'è Frank anche a me Frank fa impazzire anche Tara quindi altri brawler che sono stati nominati anche dai ragazzi per esempio anche Leon anche Bo ma ce ne sono tanti che mi piacciono anche per esempio Eugenio molti li potrei scegliere anche soltanto per la skin però diciamo che in generale versione base Mr. P è il mio preferito quindi sì ragazzi Corvo si porta a casa questo trofeo questa vittoria fatemi sapere sotto nei commenti qual è il vostro brawler preferito e vediamo un po' tra di voi qual è il brawler che vincerà ringrazio ovviamente tutti i ragazzi che mi hanno partecipato con un vocale a questo video ovviamente trovate tutti i link in descrizione iscrivetevi al mio canale per non perdervi tutti i prossimi episodi in esclusiva e in anteprima dell'aggiornamento di Brawl che avverrà nei prossimi giorni lasciate un bel mi piace e almeno 10.000 like per altri video con tutti questi miei carissimi amici ma soprattutto vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars per me è tutto noi ci troveremo nei prossimi giorni con tanti altri video sull'aggiornamento di Brawl Stars con appunto tutte le novità in anteprima e in esclusiva per me è tutto ci troviamo appunto con i prossimi video ciao raga